È operativo da oggi lo sportello di ascolto SOS Famiglia del Comune di Macerata, un nuovo progetto di rafforzamento del centro per famiglie messo in campo grazie al fondo erogato dalla Regione Marche destinato all'ambito sociale e territoriale 15 e trasferito nel bilancio dell'ente, comune capofila proprio dell'ATS. Un supporto dedicato alle famiglie, soprattutto nei problemi legati a coppia e ai figli. Riteniamo che la pandemia abbia portato anche conseguenze dal punto di vista sociale che non possono essere trascurate e in particolare abbiamo visto che la pandemia ha tagliato quei ponti relazionali che sono assolutamente importanti all'interno delle dinamiche familiari. Quindi per anche prevenire inasprimenti relazionali all'interno delle famiglie, tra figli, genitori o appunto tra coniugi, abbiamo pensato di supportare la famiglia con questo sportello di ascolto. Perché poi quello che sta mancando proprio in questo momento è la possibilità da parte dei nostri cittadini di confrontarsi con qualcuno, di dialogare, di aprirsi per tutte quelle che sono appunto le necessità di carattere psicosociale. Quindi è un supporto al quotidiano di cui abbiamo bisogno e potremo aver bisogno tutti noi. Quindi non è uno sportello legato a fragilità che già evidenziano criticità importanti, ma per tutte quelle situazioni legate al quotidiano e soprattutto con uno sguardo particolare ai giovani e alle problematiche dei ragazzi. Il nuovo servizio è attivo sei giorni su sette e vedrà le risposte di due consulenti familiari, Rosalba Bonfigli e Stefania Carluccio, che cercheranno di affiancare chi chiama nelle relazioni di comunicazione e di educazione con i figli e nelle quotidiane tensioni e fatiche della coppia. A questi due numeri risponderanno due consulenti familiari che sono appunto formate per questo tipo di attività, appunto rilevando i bisogni, poi qualora ci fosse la necessità di un approfondimento anche da parte di altre figure professionali, psicologi o altre figure appunto come i mediatori familiari, verranno poi smistate e si farà un approfondimento ulteriore.